Buon volo, perdonimi, però mi amiamo al fruizzo, se mi è successo in questo CTE-21, non mi è successo con questo CTE-21, non mi è successo in questo momento. CTE-21. Tranquillo, istruisto Maurizio, mi dai paroli in Esperanto. Eh, che buone! Prenneble, comprenneble. Buone. Nur Esperanto. Ci vespera, ciú estas nur nitri? Yes. Ne estas virinon. Ne estas virinon. Virinoi, virinoi. Ne estas virinon. di via, di via, di via parolato. Ne gravi, ne gravi. Chi è estas, chi è estas virinui? Ha,三不要, e di via, e io, shall mesmo... Chi è, chi è, chi èetas. Ah, chi è stia. mi sci... Mi è venuto, che uno è Anita, che è il laboratorio, e noi stiamo conoscendo chi è. Bene, se avete successo, leggere e racconto la redazione del rapporto che ho sentito a voi? Sì, mi è successo, mi è successo. Mi è successo. Mi dirà, è successo. Perché mi faccio un grande resumo se mi diciamo se sei corretto. Gi è successo. Mi credo che gi è successo. No. Buone. Giuliano, ci rivolas comensi la resummona dell'articolon. Chi mi comprende, Prigino? Prigino. L'articolo parola… O case della Dudek 2, essendo del radioprogrammo Esperanto e Sarajevo, la conduttora parola per i redacciai, i redacciai, iarfinan rapporton. Buon volum e mori, che chiam vi usas preposizion, mi ne devas usi accusativon. Mi miscias, sed mi ne memoras. Mi vedo che l'aver chiesto parola per il fatto che sei un grave affetto, ne scrivi sed parole. Chiar scrivi, sendi articolo in, sendi giornalo in, esti stremmo facili afero. Do, ili preferis usi la radio di Sarajevo, por sendi messaggi in, ente fremda lingua, ciò che i programmi di Radio Sarajevo sono tutti in lingua bosnia che pensano usare la radio per essere sperando i messaggi al mondo Dek minuti per Tagon? Dek minuti per Tagon Dek minuti per Tagon potago 10 minuti potago potago ciui tagui stas e gala yes 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 ciui i li sendis messaggio in esperanza in messaggio in de esperanza il sarajevo por 10 minuti piu ci est aspera pardon min giuliano bon volu daurigi via resumo yes li adiawas plian mal mal vietegan iaron por bosnia herzegovina popolo cai internazia comununo yes medaurin de logiantui de bosnia herzegovino suferis la play brutal agreso de gia historio yes compreneble vi comprenas che tiuci estas la la opinio de la de bosnia i bercistoi yes ca iancauci britannii eble serba 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 i britannui pensas salie mi bon chance estas italoi do minur mi pobas diri diri che tiuci estas bosnia opinio comprenetle sed ni ne avas medio in por diri che unu avalia raitas comprenetle certe mi pobas diri che bosnia et segovino suferis multe do mi devas mi opinias che la la vero estas pli de la parte de bosnia sed comprenetle ni ne avas la la opinion de serboi comprenetle mi mi devas ciam memori char ni ni estas parolantai pri la la opinio de de bosniai homoi qui certe suferis sed est est ca estas nur unu parto de la situazione comprenetle mi mi nes si se vi avas la 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 opinion yes mi acordas con mi yes yes denis chiam vi opinias duch io mi anca u acordas ah eg eg bon eg bon 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 volu tu righi la 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 l'assumon giuliano l'aver chisto diras anca u che la internazia comununo havas sursia con consienzo malbona conduto chargimontris ipocritezzon havas malbona conduto malbona yes malbona conduto yes malbona videvas accusativon char vi usis transitiva transitivan verbon yes chargimontris ipocritezzon kai egoismon yes uniginta in azioi kai internazia comununo nefarin enios porcesi militon nefaris 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 vi ne povast du foie nei ion nefaris ion o au vi devas diri faris nen ion ah yes nefaris ion porcesi porcesi militon em bos nio er zego vino ege bonege yes 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 denis paroli pri la proximan parton de la de la verbo de la mercato yes mi scrives che la brutalezzo dell'aggresso denis vi deva fare il resumo de entia i malfazzila i condicio sopra supere 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 e vien a faccilla i condicio e in chi si trovi segnalando anche un esperanto ligo de bosnio e in cadre dei si ai blezzo i transpreni la task con defendi a ting aggio e energia pluri arzenta evoluo basita sul principio di nazia religiaca e cività nato l'erremo e soldi arezzo che i victimali dell'aggresso per essau è un di plurio membro dei miei associati e mia avaggio è gran parte detruita quindi leggiamo la parte Dennis e posso fare il resumo Giuliano se viene leggiamo yes mi ne trovo la parte sì 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 è gravo ma voglio fare il resumo di tia parto yes do malgrau malfazili condizioi condizioi porcivi loggianti la esperanta ligo di Bosnia e Erzegovina transpranis la task con defendi principoi in sur sur kiu basita i arzenta historio de g yes 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 la per chisto parola pri la atting asioi suvi compreni slavorto atting asioi conquiste yes giuliano traduchilo traduchilo estas bone conquiste yes 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 che poste plurai membri de de speranta ligo mortis au estis bunditai ca sia havajo estis gran parte detruita yes bone eh denis ripovast aurighi eh la la part pro brutalezzo dell'aggressor oh yes yes ehm vi scribes la brutale la brutalezzo dell'aggressor causis completa comunica bloccado do la tuta mondo causis completan comunican bloccadon causis kion videvas usi accusativon chiambi usas transitivan verbon compreneble videvas usi accusativon causis completan comunican bloccadon completan comunican bloccadon no la tuta mondo malfassile comprenis la vero la veron comprenis kion la vero di dimensi della crim magoi Sì. 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 Sì.